14 milioni di euro è la cifra sbloccata per pagare i debiti della pubblica amministrazione verso i fornitori. Dopo l'approvazione del decreto numero 41.843 del 14 maggio 2013, il Comune di Lucca fa la propria parte per operare in deroga al patto di stabilità e ridare così ossigeno al tessuto economico locale. Tutte le fatture anteriori al 31 dicembre 2012 saranno così saldate e la cifra stanziata dall'amministrazione Tambellini sarà suddivisa in 13 milioni e 99 mila euro per il pagamento dei debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013 e 970 mila euro da utilizzare per escludere dal patto di stabilità i pagamenti in conto capitale effettuati prima di questa data. Entro il 31 maggio 2013 l'amministrazione provvederà al pagamento degli arretrati fino al 30 giugno 2012 per un importo di 4 milioni 113 mila 71,18 euro corrispondenti a 300 fatture e 90 ditte. La seconda tranche sarà invece effettuata entro la fine di luglio 2013 e il criterio che verrà utilizzato per saldare i debiti sarà quello dell'ordine cronologico così come previsto dalla legge. Entro il 30 giugno l'amministrazione comunicherà tutte le ditte che presentano fatture non estinte fino alla data del 31 dicembre 2012 quando saranno pagate. Per lo spazio finanziario concesso il Comune pagherà tutte le fatture e gli spropri esistenti al 31 dicembre 2012 entro il 31 dicembre 2013. Circa 5 miliardi è la cifra stanziata dal Governo per permettere agli enti locali di pagare le ditte. Non tutto il plafone è stato assegnato ma il Ministero ha assicurato che la parte residuale verrà ridistribuita entro il 31 luglio. Per il Comune di Lucca la differenza tra richiesta e quota concessa è di 588 mila euro. Per rispettare il programma l'amministrazione ha anche riorganizzato l'ufficio dedicando personale aggiuntivo al pagamento delle fatture. Vuol dire riattivare un meccanismo che sicuramente produrrà nuovi posti di lavoro aprirà nuovi cantieri e permetterà poi all'amministrazione comunale liberando lo spazio finanziario legato al patto di stabilità di poter prevedere opere pubbliche, interventi sulle scuole, su altri edifici comunali che potranno far sì che un comparto in crisi come quello dell'edilizia possa riprendersi, possa avere un minimo di ossigeno.